Metri 2 a 2.080, prima fila allo start per Ernesto Valmont, Isicol, Lester Luis, Eledipa ed Eusperio Jet. Seconda fila per Errol Flynn, Trebbel, Chapolax, Miedi FKS, Scamotage, BG, Evelyn Griff. A 2.080 metri, col numero 11 Eric di Giri Falco, ed il 12 Eagle Wise L. I cavalli sono nel pistino interno, agli ordini dello starter. Convalidate il primo segnale con Eusperio Jet che attacca Isicol. Insiste Eusperio Jet sull'avversario e all'imbocco della prima piegata Eusperio Jet sopravanza Isicol. Terza posizione per il numero 1 Ernesto Valmont. Veloce, Escamotage, BG che punta in avanti, ma fa prima Ernesto Valmont che andrà a rilevare il compagno di allenamento Eusperio Jet. Quarto iniziale in 33 Ernesto Valmont, nuovo leader su Eusperio Jet e Isicol, treno esterno capeggiato da Escamotage, BG. Nella sua scia c'è il numero 10 Evelyn Griff che precede Eledipa, la favorita in terza pariglia esterna. All'interno è di FKS. Si viaggia a media di 1,16 scarsi in questa prima parte di gara, tant'è vero che gli 800 sono percorsi in 1,1 e mezzo. Ernesto Valmont, Eusperio Jet, Isicol all'interno, Escamotage, BG, Evelyn Griff e Eledipa all'argo. Primo giro ultimato in 1,16 secchi da start a start sul mio cronometro. Continua il percorso di testa di Ernesto Valmont, incalzato da Escamotage, BG. Lungo i paletti, acquattato in seconda posizione, Eusperio Jet, curva in 15,5. Torna ad allungare Ernesto Valmont. Eusperio Jet cerca di tenerne il passo lungo i paletti e Escamotage, BG, di restagli incollato all'esterno. 14,4 l'ultima frazione. Ernesto Valmont in fuga, non lo perde di vista, Escamotage. Poi Eusperio fanno fatica ad inserirsi gli altri. Lo scatto da dietro di Eledipa, anticipata da Evelyn Griff, miglio in due minuti. Ernesto Valmont va in fuga. Eusperio Jet, lungo i paletti, retta d'arrivo. Ernesto Valmont in chiaro vantaggio, ha fatto bene i conti. Se n'è andato, però c'è lo scatto di Eledipa, ma il gap da ricucire è enorme. Lo scatto anche di El Chapolaxmi, che arriva forte a largo. Ernesto Valmont va a vincere su Eledipa, El Chapolaxmi. E' questo l'arrivo probabile ed ufficioso della settima corsa d'Agnano, media di 1,15 secchi, con secondo giro sul mio in 13,5. Ernesto Valmont, quarto successo a seguire per il figlio di Nadal Sheba e Lollo d'Italia. I colori del signor Salvatore Scarpa, Saverio Gallo nell'allenatore e Filippo Gallo l'interprete alla grande. Veramente alla grande. Questo Gallo che è cresciuto tantissimo, ma non demerita Eledipa. e corre molto ma molto bene anche El Chapolaxmi, che chiude con un terrific...